Questa qui è una novità che viene dall'Olanda, l'ho vista a Frida Schaffer in occasione dell'Eurobike e praticamente è un prodotto straordinario perché prima di tutto il bimbo comunque vede sempre tutte le operazioni che noi facciamo siamo sempre, abbiamo sempre sotto controllo, poi da bicicletta diventa velocemente un passeggino un passeggino con le ruote all'interno, disco, eh? Allora, la cosa straordinaria è che quando il bimbo è cresciuto, o i bimbi insomma sono cresciuti questa c'è anche la versione per i gemelli, fratellini, eccetera, eccetera si sostituisce questa navetta con un vascone per andare a fare la spesa allora immaginiamoci, immaginiamoci che noi entriamo dentro un supermercato o qualche cosa bene, dalla nostra bicicletta la trasformiamo in carrello della spesa e riempiamo questo pascone fino a 200 litri, cioè è una cosa straordinaria, capito? a 6 itineri avans vanno 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 Grazie a tutti.